Ciao ragazzi, questo è un video tranquillo, rilassato, senza i ritmi veloci degli altri video quindi ho deciso di farmi non un tè ma una camomilla perché in questi giorni di quarantena se mi metto a farmi anche i tè va a finire il bibutto dal ventesimo piano le camomille sono proprio quello di cui ho bisogno in questo periodo Voi come state? Tutto bene? Faccio questo video perché vi ho chiesto su Instagram, sul mio profilo nelle storie di farmi qualche domanda e quindi volevo interagire un po' con voi e rispondere a un po' di domande Sembra un vecchio tea time, vero? I tea time come format si sono evoluti, sono cambiati radicalmente nel corso del tempo Sembra appunto uno dei miei primissimi tea time Comunque, andiamo a leggerli Allora, la prima domanda è Quando hai capito che il disegno era la tua strada? Ti ammiro molto, ciao Allora, diciamo che a me è sempre interessato il disegno Sarà perché mio fratello comprava i manga e lui mi diceva proprio non devi assolutamente toccarli altrimenti ti brucio ti distruggo, non ci sarai più a questo mondo e quindi io ero ancora più invogliato a prenderli e a sgraffignare qualche manga fino al giorno in cui ci sono riuscito e sono rimasto affascinato da tutti questi disegni con questi occhioni giganti, con i capelli colorati e allora mi sono messo a ricopiare qualche disegno Lì, insomma, è nata la mia passione per il disegno ma nello specifico, per rispondere alla tua domanda quando è che ho capito che il disegno era la mia strada credo che in questo caso YouTube abbia avuto un ruolo molto molto importante perché YouTube mi ha fatto capire che attraverso il disegno potevo comunicare comunicare con tantissime persone attraverso il web anche soltanto stando a casa iniziando a fare tutorial ho conosciuto tantissime persone mi piaceva leggere i commenti delle persone che dicevano grazie, grazie per l'aiuto puoi fare il tutorial su quest'altro e si iscrivevano si è creato un sentimento di community che poi ha portato a sviluppare ulteriormente questa passione ho trovato nella comunicazione attraverso i disegni la mia motivazione e quindi sì, sicuramente nel momento in cui ho aperto il mio canale YouTube ho capito insomma che volevo continuare a disegnare poi, prossima domanda ciao, hai mai pensato di prendere un animale? un animale? sì, 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 sì io adoro i gatti non sono un tipo da cani mi dispiace, mi dispiace per tutte quelle persone che hanno un cane a casa gli vogliono tantissimo bene ma io i cani proprio non ce la faccio, non ce la faccio sono agitati, si animano, ti vengono addosso ok, sono festosi bello, può dare anche un certo tipo di non so, siamo felici del fatto che il nostro cane sia festoso ma quando io vado a casa di qualcun altro tutta questa festività non la voglio, io voglio star tranquillo il gatto invece è tranquillissimo al massimo che cosa fa? rompe un po' le scatole per avere il cibo fa miau 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 dipende sempre da gatto a gatto però, però il cane è troppo e poi i cani sono di tantissime misure sono anche quelli giganteschi io una volta sono andato a casa di un mio amico che aveva questo cane enorme e stava dentro casa e faceva un casino con la coda sbatteva ovunque e in più appena beveva veniva addosso a te si sbrodolava tutto quanto addosso il gatto invece è un po' più come me un po' più tranquillo si fa un po' i cavoli suoi poi ogni tanto ci incontriamo stiamo insieme insomma è una relazione più stabile per me e sì, soprattutto in questi giorni di quarantena ho pensato all'idea di non di prendere un gatto ma in generale all'idea di avere un gatto perché anche se volessi prenderlo non so adesso dove cosa potrei fare non ho mai considerato veramente l'idea di avere un gatto qui con me perché con il nostro lavoro o almeno prima adesso non lo so più però prima con il nostro lavoro eravamo sempre in giro con fiere, attività, eventi o comunque viaggiavamo diciamo in maniera imprevista senza sapere anche quanto tempo ci ritrovavamo fuori casa e non avendo nessuno che qui può badare al gatto ci dispiaceva insomma l'idea di lasciarlo vari giorni da solo vabbè che dicono che il gatto sia più indipendente ma diciamo 4 giorni o 5 è troppo anche per un gatto quindi non l'abbiamo mai considerato veramente però nei miei sogni c'è un bellissimo gatto poi prossima domanda quante ore disegni al giorno? ti concentri più sul digitale o sul tradizionale? allora disegno non quanto vorrei nel senso in questi giorni soprattutto in questi giorni in cui c'è tantissimo da insomma c'è tantissimo tempo a disposizione vorrei disegnare molto di più solo che una cosa da tenere in considerazione è che comunque il mio lavoro non è soltanto disegnare disegnare è uno degli step per creare poi un contenuto sul web ma poi in generale abbiamo tantissime altre attività collegate quindi sia al nostro canale che alle nostre figure offline che vanno gestite quindi molto tempo se ne va a rispondere alle mail molto tempo se ne va magari nell'ultimare i montaggi nell'esportare i video nel gestire i collaboratori quindi non non posso soltanto pensare di disegnare 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 anche se in questo in questo periodo in questo periodo visto che c'è tanto tempo sto disegnando di più sarà una specie di riflesso non so per cercare appunto di riempire il tempo però sto disegnando di più anche se ci sono delle volte in cui proprio io ragazzi mi sveglio e non c'ho voglia di fare niente ieri per esempio volevo registrare questo video ieri ma mi sono svegliato proprio che era una di quelle avete presente le giornate? no che tu ti svegli e dici già già questa giornata mi sta sulle scatole e qualsiasi cosa dovresti fare pensi che dovresti farla ma non hai voglia entri in una specie di circolo vizioso in cui non la fai e il fatto che non la stai facendo ti mette ancora più di cattivo umore e l'unica cosa sana che puoi fare è dire senti basta questa giornata ormai è buttata tanto vale renderla decisamente improduttiva e non fare niente almeno mi riposo e quindi vabbè però vabbè a parte questo prossima domanda ma prima sorsino la prossima domanda è una risposta è una domanda molto bella impegnativa ma non voglio renderla impegnativa voglio rispondere in maniera breve perché non voglio aprire una discussione a riguardo però mi chiedono sei ateo? che poi non è la prima persona che me lo chiede nel senso do l'impressione di essere ateo non lo so sarà sarà per il fatto che non è un argomento che tratto che parlo di cui parlo sul mio canale ma perché il mio canale è un canale di disegno in generale lo avrete notato anche voi che sul mio canale tendo a parlare non parlare molto dei cavoli miei però in generale non sono ateo audio non sono ateo però devo dire che non mi pongo neanche tante domande cioè non sono il tipo che si pone domande a cui sa che non può avere probabilmente risposta quindi l'unica cosa che faccio è vivere la mia vita cercando di comportarmi al meglio delle mie possibilità e poi chi lo sa magari un giorno alla fine di tutto di tutto questo tutti noi sapremo la risposta a questa ai nostri grandi interrogativi o magari nessuno di noi lo saprà nel dubbio io vivo e mi comporto bene ecco a prescindere poi vediamo altra domanda ti senti soddisfatto della tua vita? queste sono le domande che mettono ansia allora no ma non è un no del tipo non sono soddisfatto della mia vita non è un no frustrato diciamo è un no propositivo nel senso che ho momenti di soddisfazione nella mia vita nel senso riesco a identificare punti in cui ho provato grandi soddisfazioni per un progetto portato a termine per un risultato un obiettivo ma non posso dire sono soddisfatto della mia vita perché credo che nessuno riuscirà mai a raggiungere questo livello di soddisfazione c'è sempre questo costante sentimento di insoddisfazione che alla fine è proprio quel sentimento che ti porta a sperimentare cose nuove crescere voler raggiungere risultati sempre più grandi quindi ogni giorno c'è sempre qualcosa in più che vorrei fare qualche risultato maggiore che vorrei raggiungere qualche altro obiettivo che vorrei a cui vorrei arrivare quindi no non sono non sono soddisfatto anche se posso dire che uno dei più grandi momenti di soddisfazione probabilmente nell'imminente futuro si spera sarà quando sarò riuscito finalmente a spedire i miei fumetti che si sono bloccati qui a casa per via della situazione che stiamo vivendo però ho novità in merito e nel caso poi ve lo dirò nel video come hai imparato a montare i video solo soletto a questa domanda in realtà non rispondo oggi scusate ma oh cavolo parlare mentre si beve è una cosa che è difficile da fare comunque oh dicevamo questa qua è una domanda a cui magari non rispondo in questo video ma vi lascio un video che pubblicherò la prossima settimana dove rispondo proprio a questo a questo sia a questa domanda che in generale a tutto questo aspetto presentandovi quello che è stato il mio percorso di studi entrando un po' nel merito della mia formazione quindi se non volete perdervelo cliccate sulla campanella poi all'inizio anche tu non riuscivi a fare bene il chiaroscuro o hai imparato in fretta? allora partiamo dal presupposto che io all'inizio cioè disegnavo male ma nel senso disegnavo male come tutte le persone che iniziano a disegnare infatti anzi aspettate un attimo ho qui dei disegni di quando ero piccolo che ora vi faccio vedere bello della diretta senza tagli né nulla allora eccoli qua sono bellissimi e vi fanno capire proprio il livello che avevo ecco qua questo è un disegno questo è un altro disegno cioè questo qui è venuto un pochino meglio ero fissato non so con gli angeli ma insomma vi fa capire che tutti quanti noi nel momento in cui iniziamo a fare qualcosa di nuovo non è che ne siamo già schillati già con tutti quanti col potere di essere già avanti rispetto a tutti gli altri quindi sì anch'io avevo problemi col chiaroscuro come avevo problemi con le proporzioni come avevo problemi in tantissime altre cose ma poi a forza di di esercitarmi 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 pian piano sono migliorato poi ah non ho risposto a una domanda se prediligo il disegno digitale o tradizionale allora lo vedrete anche dai video che faccio basta vedere nei miei video disegno più spesso in digitale o in tradizionale il digitale per me è molto 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 comodo ma perché è più veloce posso correggere gli errori posso ottenere risultati più velocemente è anche più facile nel momento in cui un disegno vado a trasporlo diciamo in un poster cioè poi se voglio farci un poster o un qualcosa di stampato avere il formato digitale è molto più comodo aver lavorato in digitale però comunque il tradizionale il tradizionale è sempre il suo fascino ed è il motivo per cui comunque anche se disegno spesso con per esempio l'iPad o la tavoletta grafica sul mio canale comunque ci tengo a fare format come scroller box in cui apro pacchetti a caso di materiale tradizionale cerco di disegnare il tradizionale quindi tra le mie tecniche preferite del tradizionale c'è l'acrilico però l'acrilico insieme ad altre come dire altre tre so acchine acquarelli e dettagli acrilici questa qua è la mia combo poi vediamo scusate un momento parlare parlare mentre si sta cercando anche di bere eccetera è un casino ti raseresti mai i capelli per poi donarli in beneficenza si donano in beneficenza i capelli a chi? alle persone pelate allora nel senso in generale a prescindere dalla beneficenza la domanda poteva fermarsi a ti raserai mai i capelli? no per beneficenza? no sono sicuro ci sono tantissime altre persone che doneranno tranquillamente i propri capelli al posto mio a meno che non ci sia una qualche scommessa assurda per esempio Francesca scherzandone in uno dei miei ultimi video ha detto se raggiungiamo il milione ti rasi i capelli? ah si se lo raggiungiamo in un mese è il minimo che posso fare insomma così tante persone che vogliono vedermi rasato e riescono a farmi raggiungere questo obiettivo glielo devo ma si scherza insomma poi come stai in questi giorni? mangia sano mi raccomando allora sul mangiare sano nessun problema ragazzi mi sto sfondando di pancake questa è proprio alla base della dieta sana mediterranea mediterranea infatti no ma a prescindere da questo comunque stiamo mangiando abbiamo fatto la spesa quella grossa tipo pasta e carne verdura cose così ci ha salvato la vita il fruttivendolo perché fare la spesa in questi giorni è abbastanza complesso perché c'è una fila sempre lunghissima in più tutta quella tiritera precauzioni per entrare guanti eccetera calca di gente quindi è complesso andare a fare la spesa però il fruttivendolo è un po' più tranquillo puoi andare lì prendere le tue carotine zucchine cipolline eccetera e magari costa anche un pochino meno quindi ci ha salvato da quel punto di vista altrimenti avremmo preso soltanto non so carne e pasta mentre per quanto riguarda l'altra domanda è come sta in questi giorni allora in questi giorni ogni volta che penso come sai Riccardo mi verrebbe voglia di sdraiarmi su uno di quei lettini da psicologo e dire allora da dove posso cominciare no come dire è un pochino difficile non tanto il non uscire perché come vi ho detto spesso non è che uscivamo uscivamo tantissimo però sono cambiate un po' di cose nelle dinamiche del lavoro il fatto che mi dispiace tantissimo che le fiere del fumetto adesso siano state tutte quante rinviate le attività che avevo inerenti a quelle fiere siano state rinviate diciamo è cambiata un po' la situazione devo ringraziare il fatto che noi facciamo tante cose perché se fossi soltanto non so specializzato nel fumetto quindi il campo del fumetto io sarei totalmente bloccato non ci sono fiere quindi non ho la possibilità di vendere il mio fumetto e il fumetto mio autoprodotto ho problemi a spedirlo devo davvero ringraziare il fatto che facciamo tantissime cose facciamo youtube facciamo lavori esterni per quanto riguarda video questo ci ha ci ha permesso di avere un paracadute di sicurezza di base però però gli eventi gli eventi sono quella cosa che già quando c'erano comunque avrei voluto fare sempre di più e proprio in questo all'inizio di questo anno in cui ero riuscito a portare a termine quindi a a chiudere un po' di di lavori inerenti a al live alle attività proprio di intrattenimento su palco eccetera è successo questo quindi quindi niente questo quando arriverà il tuo fumetto? allora piccolo aggiornamento per quanto riguarda il mio fumetto mi hanno mandato una mail proprio ieri in cui ma sarà l'altro ieri quando vedrete questo video in cui mi hanno detto che vedendo la situazione attuale per ora sono tranquilli nello spedire il fumetto a Milano quindi dentro la nostra zona quindi ora mi devo organizzare un attimo perché sono fumetti e tra le cose diciamo che sono un po' saltate per quanto riguarda i piani riguardo questo fumetto c'era il mio collaboratore che doveva trasferirsi qui a Milano e doveva aiutarmi nel prendere i fumetti metterli dentro la busta metterci in indirizzo e tutto quanto quindi non avendo più però il mio collaboratore qui a Milano devo sicuramente fare tutto quanto da solo e quindi devo organizzarmi un attimo anche perché così fumetti diciamo tutti quanti compatti eccetera occupano abbastanza spazio all'interno di casa mia però nel momento in cui li metto anche dentro alle buste rinforzate e tutto quanto anche solo 100 fumetti diventeranno una cosa gigante quindi vi tengo aggiornati poi vediamo che cartoni guardavi da piccolo allora da piccolo guardavo tutti i cartoni di un programma regionale del Lazio quindi se non siete del Lazio non potete avere il piacere di dire sono cresciuto con questo canale che è Super3 che ormai non c'è più era bellissimo perché mandavano cartoni animati come quali erano tipo il Mago Pancione oppure Yattaman Calendar Man oppure Mute King insomma erano tutti quei cartoni che ormai sono vecchi ora sono vecchissimi se cercate Yattaman su Google o il Mago Pancione chi se li guarderebbe oggi questi cartoni però fanno parte della mia infanzia ci sono cresciuto soprattutto con Super3 che era davvero molto bello perché la presentatrice di Super3 che si chiamava Sonia aveva creato proprio un clima bellissimo nel Lazio dove tutti i bambini sono cresciuti e passavano le giornate a guardare il suo programma in cui leggeva le lettere dei bambini vedeva i loro disegni anch'io da piccolo ho mandato il mio disegno a Sonia non so se gli sia mai arrivato ma in realtà non so neanche se sia mai stato spedito perché io ho ancora questo questo sentimento che i miei genitori mi abbiano ingannato che io tipo stavo lì a rompere le scatole dicendo mamma mamma ma io ho mandato il mio disegno a Sonia ma io ho mandato il mio disegno a Sonia e abbiano fatto finta di mandarla in realtà boh magari me la ritroverò un giorno dentro casa comunque scusate se continuo a fare così perché mi sono mozzicato il labbro morsicato morsicato il labbro non mozzicato questi qua sono gli strascichi del romano che mi porto dietro perché non crei un concorso a premi per i tuoi fan allora diciamo il tema concorso è molto complesso perché se vuoi fare un contesto un concorso qui in Italia non puoi farlo a cuore leggero non puoi fare un video in cui dici ma sì regaliamo una tavoletta grafica regaliamo dei materiali in più che ho perché ogni volta che fai un concorso questo concorso deve essere registrato deve essere comunicato deve essere regolamentato è una cosa lunga complessa anche mi sa comunque bisogna metterci dei soldi per regolamentarlo quindi di solito non si fanno i concorsi e chi li fa non li sta facendo in regola a meno che non si tratta di collaborazioni con brand dove il brand stesso diciamo se c'è che ne so Francesca che fa un concorso dove regala una Wacom ed è un video in collaborazione con Wacom siamo sicuri che Wacom abbia già si sia già occupata di tutta quella parte lì insomma comunque videogame preferito allora videogame preferito ve lo faccio vedere ve lo faccio vedere aspettate ce l'ho qui sempre il bello della diretta allora secondo voi qual è? eh? secondo voi qual è? il mio gioco preferito la mia tipologia di giochi preferita anzi ho comprato proprio l'altro ieri mi è arrivato l'ultimo gioco che è uscito di questa tipologia di giochi tadaaa Final Fantasy i Final Fantasy io li adoro in generale i giochi della Square Enix e giusto ieri ho iniziato a giocarci per la prima volta mi sono fatto le mie sette ore e mezza di gioco consecutive sarà anche per questo che ho bisogno di una camomilla perché devo avrò dormito non so no ho dormito ho dormito un sacco mi sono soviata tra i due però questo si ripercuote sulla mia risposta sulla domanda come sta in questi giorni quarantena un po' sfasato comunque questo qua è il mio gioco preferito come fai ad essere così affascinante? e in che casata sei? allora come faccio ad essere così affascinante? io credo sia a merito dei capelli sì perché essendo lunghissimi stanno tutti quanti davanti alla faccia facendo quell'effetto tipo vedo non vedo in cui ognuno guardandomi e non vedendo bene i miei occhi tipo così faccio un po' effetto cugino hit della famiglia Adams in cui tutti possono immaginarsi il mio volto nel modo migliore possibile e quindi il risultato è che sono bellissimo perché non mi si vede la faccia e a parte questo l'altra domanda era in che casata sei? secondo voi in che casata sono? vediamo sono serpeverde sì ho fatto il test ma era un test che non tutti dovremmo essere serpeverde perché ti fa domande a cui è impossibile rispondere in maniera diversa tipo per te è importante il potere? sì serpeverde comunque il tuo artista preferito? allora molti di voi mi chiedono quali artisti seguo quali sono i miei artisti che più mi ispirano e se volete avere questa informazione basta che andate sul mio profilo instagram intanto trovate il link anche in descrizione e e guardate chi seguo io seguo soltanto gli artisti che mi piacciono e qualche amico insomma se trovate quei 3 4 amici che seguo vabbè non sono loro gli artisti che mi piacciono però tutti gli altri sono appunto artisti che guardo giornalmente di cui mi salvo i disegni che studio eccetera quindi niente questo mi hai pensato di studiare canto allora il canto è una cosa che mi ha sempre affascinato perché la musica mi ha sempre affascinato la musica ha un grandissimo potere cioè a prescindere da se ti piace se non ti piace se la stai ascoltando volutamente o involontariamente la musica ti arriva ti entra dentro e ti condiziona ti ti segna anche una musica che non ti piace magari te la ritrovi a canticchiarla ed è un aspetto che mi ha sempre incuriosito ed è il motivo per cui uno dei motivi per cui ho iniziato anche a studiare pianoforte diciamo per comporre le mie musiche però anche il canto come dire analizzando quella che è la mia voce comunque e il fatto che comunque ci tengo ad avere una dizione corretta sento che dal punto di vista argomento canto potrei magari studiare e ottenere qualche risultato però il motivo per cui non lo sto facendo è che altrimenti sono troppe cose già c'è il disegno poi c'è l'animazione 2D il montaggio video con After Effects e tutto quanto poi c'è il pianoforte sto cercando di imparare forse troppe cose meglio ok imparare tutte quelle cose che ti permettono di aggiungere valore a quello che stai facendo piuttosto che dire ok ora mi metto a cantare sul mio canale ogni tanto il riccio canta non so se se l'avete visto se non l'avete visto non vi preoccupate non andate a vedervelo non il riccio che canta è carino ma no comunque altra domanda le ultime tre domande quando hai iniziato la tua carriera da youtuber lo hai subito detto ai tuoi genitori? ti adoro grazie allora devo ammettere che io sono una persona che dimentica facilmente la mia infanzia è un po' annebbiata diciamo è una cosa che mi preoccupa perché questa specie di nebbia che non ti fa ricordare bene gli avvenimenti del passato come dire ti dà la sensazione che tu abbia vissuto pochi momenti rilevanti nel tuo passato e di conseguenza abbia vissuto poco man mano che va avanti il tempo sembra che quello che è stato il passato sia sempre più corto è una cosa un po' strana però devo dire che in effetti io mi sa che mi sono creato un canale su youtube senza dire niente ai miei genitori ho detto che volevo una videocamera ma non gli ho spiegato effettivamente tutti i motivi per cui volevo una videocamera e anche perché comunque in parte me la stavo pagando io e semplicemente ho iniziato a fare e non so non so loro che idea si fossero fatti della situazione io ho iniziato a fare dei tutorial ho iniziato a far vedere i miei disegni facevo video però non so come effettivamente hanno preso questa cosa inizialmente forse come una cosa che vabbè nostro figlio sta facendo forse l'unico vero momento in cui hanno detto forse nostro figlio sta facendo effettivamente qualcosa è stato quando youtube no youtube mtv mi ha contattato per fare una puntata di un programma su di me che era mtv news l'hanno fatto due volte mtv news e romanzo personale mi sembra li trovate anche in giro nel senso se cercate di ricerca no non ve lo dico non ve lo dico non vi istigo a guardarlo perché è un po' cringe sono un po' piccolo e dico un po' di stupidaggini quindi non ve lo dico però non so dovrei farci un video dovrei farci un video riguardo a questa cosa chiedere ai miei genitori che cosa pensavano ce lo farò ma alla fine ti sei messo questa immagine di profilo perché hai perso la sfida con Frafrog per chi non lo sapesse su instagram la mia immagine di profilo è la mia foto modificata come se avessi la faccia di yugioh e si ormai in effetti me ne ero anche scordato l'ho messa quando ho perso la sfida con francesca su quante persone conoscevano Tsubasa Chronicle vergogna vergogna io pensavo molte di più ed è per colpa vostra se ora ho l'immagine di yugioh come immagine del profilo ultima domanda quindi ultima domanda ultimo sorso aspetta non voglio fare tagli oddio a un certo punto sparerò un ruttino quello dovrò tagliarlo per forza farei un altro video dove realizzi nel tuo stile i nostri disegni si 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 ho visto che vi piace tantissimo come come format ed è un format a cui sicuramente non rinuncerò e che cercherò cercherò anzi di fare più spesso e anzi se non volete perdervelo cliccate sulla campanella mi raccomando è molto importante perché sapete ci sono quante 650.000 persone iscritte al mio canale e soltanto 200.000 hanno la campanella attiva e e soltanto 120.000 hanno quella che che ti mostra tutte le notifiche e questo qua è un peccato perché 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 rischiate di perdervi dei video e poi ci sono io che dico perché questo video è così ci ho messo così tanto tempo e impegno per farlo e poi sono visto 50.000 persone dove sono le altre 600.000 beh non c'è le altre 600.000 magari non hanno molti di loro cliccate sulla campanella e vabbè comunque che dire grazie e se avete altre domande non scrivetele qui sotto no non scrivetele qui sotto aspettate che esca un'altra storia su instagram quindi seguitemi su instagram ma ci vediamo tanto oggi perché oggi c'è la live su twitch alle 5 come ogni venerdì quindi segnatevi seguiteci su twitch dove guarderemo i vostri disegni quindi preparate i vostri disegni che poi verranno pubblicati su instagram taggatemi nel caso perché andremo a vederli insieme io e francesca va bene se avete qualsiasi cosa da dire qualsiasi considerazione scrivetrà qui sotto nei commenti e ci vediamo con un prossimo video va bene ciao